Andiamo subito con le formazioni, con la Virtus.net 1 che scende in campo con Manasse in porta, Quaresima, Ludovisi, Tomasi, Gentilini, Afilani, Filippo. Esce dunque la squadra del Sezze con questa azione di contropiede con Federici. Se ne va Federici, attenzione, incontenibili Federici, prova ad essere raggiunto il tiro da parte di Federici che colpisce il palo. Grande azione da parte del numero 7 del Sezze, prova a dare questo palone dentro, c'è un ripallo favorevole e c'è la conclusione operata da Baglio, splendida la risposta però da parte di Cantarelli. Si combatte ancora nella tre quarti con Capraro, attenzione, è lo stesso numero 7 che prova a servire adesso il numero 11 Martellacci. Bravissimo Federici a servire Martellacci che non può far altro che depositare il pallone in fondo al sacco, ripartenza micidiale da parte del Calcio Sezze.